...manifestazione, ringraziamo per l'impegno profuso, la vigilessa di Ollastra che puntualmente è sempre disponibile a poter dare una mano a venirti incontro quando l'immunità è trovata con tutti i pariglianti, tutte le persone che hanno voluto la buona rifiuta della manifestazione ripeto il dottor Vincenzo Arca per il servizio veterinario il signor Fracco e lei poi presenta l'associazione Cavaliere di Coppeola di Lugia Romba e i rappresentanti degli associazioni e i fotografi che immortalano puntualmente tutte le persone che hanno voluto la manifestazione il sindaco, il sindaco, tutta l'amministrazione con me per la disponibilità, per la disponibilità che c'ha ancora Ok, adesso, adesso facciamo, facciamo! E' bellissima! Si, c'è la magia! E' bellissima! E' bellissima! E' bellissima! E' bellissima!